E' dover essere qui oggi insieme a queste donne, a queste mamme e soprattutto ascoltare le loro storie e il loro grido di aiuto. La loro denuncia verso un sistema di tutela minori che presenta delle falle sempre più evidenti. E questo è evidente nel momento in cui c'è una commissione di inchiesta in Parlamento che analizza il perché i bambini sono allontanati dai propri genitori e rinchiusi in comunità di tipo familiare, case, famiglia. E c'è una legge oggi incardinata in Commissione Giustizia. Quello che noi istituzioni dobbiamo fare è portare a casa questa legge. Non c'è più tempo da perdere. Queste mamme non vedono i loro bambini da mesi, da anni. Ormai si stanno perdendo la loro crescita, si stanno perdendo importanti momenti della loro vita. Bisogna intervenire, finalmente chiudere questo iter legislativo e finalmente dare una tutela alle mamme, ai genitori, ma soprattutto ai bambini. Perché prima di tutto c'è il diritto del bambino a crescere all'interno di una famiglia.